Ale, 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 milanale, ale, 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 milanale, questo chiedevo, ragazzi non è che chiedevo chissà che cosa, non è che chiedevo qualcosa di astratto, una partita tranquillo, una partita dove io potessi finire il mio lavoro in diretta, quasi qua da casa mia, finivo il mio lavoro in diretta, bello tranquillo, senza dover prendere le pastiglie, gli ansiolitici, perché mi agito, senza stare così, volevo stare bello tranquillo, e godermi una partita, direi che alla fine il nostro desiderio si è avverato, finalmente una partita in cui non abbiamo avuto nessun tipo di problema, ragazzi, una partita che abbiamo dominato dal primo minuto fino alla fine, sì, qualche occasione per il Monza c'è stata, tanto per chi non lo sapesse il Monza è una squadra che io ho tifato parecchio in passato, quando ancora non era di proprietà del nostro ex presidente Silvio Berlusconi, quindi niente, nonostante, vi ripeto, non volevo dirvi questa cosa, che nonostante io avessi tifato in passato il Monza, oggi era una partita in cui tre punti bisognava fare, tre punti abbiamo fatto, chiuso, finito, X, che è la cosa più importante. Allora, partita che da una parte, praticamente dalla parte del Monza, vi stavo dicendo, non c'è praticamente mai stato, qualche occasione il Monza l'ha avuta, ma direi che nel complesso della partita il Milan ha tranquillamente tenuto in piedi, anzi, tenuto dalla propria parte interamente la partita, quindi molto, molto bene il Milan. Ci sono state delle occasioni per il Monza, però, mi ricordo, al di là del... Ah, tra l'altro, aperta parentesi, ragazzi, leggevo prima in chat qualcuno che criticava per il gol preso, raga, nel calcio ci sono anche i gesti tecnici, se è quello lì che tira la punizione del Monza, tira una punizione incredibile, poi, se volete, possiamo parlare e posso essere d'accordo con voi che magari una punizione calciata da così tanto lontano magari deve essere parata, ma al di là di questo, che è un dettaglio, se l'avversario fa un gesto tecnico per cui fa il gol, fa parte del calcio, come fa la rovesciata, Rafa Leao, e si prende il rosso, scherzo, come fa la rovesciata Rafa Leao e fa il gol, come Maradona fa la van basta e fa la rovesciata, cioè, capito, sono gesti tecnici che gli avversari fanno, ovviamente prende il gol, non per forza deve essere sempre colpa di qualcuno, però se volete poi parliamo del fatto che la punizione arriva da tanto lontano e il gol lo prendiamo lo stesso, ma quello è un altro discorso. La nostra partita, ragazzi, è stata una partita chiara, è stata una partita che, come vi dicevo prima, doveva andare subito su determinati binari, è andata su questi binari, molto bene, preparata molto bene da Mr. Pioli, ci sono dei giocatori che hanno brillato all'interno di questa partita. Ovviamente Braimino Diaz, che tra l'altro speriamo che non si sia fatto niente, ho cercato di avere qualche informazione in più, ma non ho sentito nulla, volevo raccontarvi qualcosa in più, ma non sono riuscito a sapere nulla, quindi il migliore oggi di questa partita ce ne sono stati tanti, come capita spesso. Braimino Diaz sicuramente per la doppietta, tra l'altro piccolo dettaglio, non so se vi siete accorti. Braimino Diaz adesso cerca di fare delle giocate che fino a poco tempo fa non faceva mai, per un semplice motivo, perché tu quando fai determinate giocate, ovviamente mi riferisco a Gokula Juve, quando tu fai determinate giocate e questa giocata ti riesce, poi la tua memoria da giocatore ti porta a far sì che questa giocata tu continui a provarla anche altre volte. Lui è stato uno dei miei migliori in campo, un altro mio migliore in campo, ragazzi, è Tommaso Pobega, che Tommaso Pobega oggi era come una falciava, oggi falciava Tommaso Pobega, qualsiasi cosa passava, è passata nel raggio di un metro e mezzo dalle sue gambe, per i 90 minuti lui ha fatto così, ha randellato qualsiasi cosa passasse nel raggio di due metri dalle sue gambe. Ma questo è quello che deve fare, adesso parliamo di Origi, questo è quello che deve fare Tommaso Pobega, ragazzi, questo è quello che deve fare. Vi ricordate il famoso discorso, Lollo ma Tommaso Pobega potrà mai diventare il nuovo Frankissi? Io non lo so, che cosa vi dicevo? Non lo so, ma me lo dico anche io oggi. Io non lo so se Tommaso potrà diventare il nuovo Frankissi, ma sicuramente la partita di questa sera, ok che giocavamo contro il Monza, ma sicuramente la partita di questa sera ti ha dimostrato che ha tutte le caratteristiche in regola per diventare il nuovo Kessi. Benasser, che mi ha fatto prendere uno spavento adesso qua, pensavo si fosse fatto male, fortunatamente non si è fatto niente, agli ultimi minuti almeno così pare, mi auguro, incrocio le dita, speriamo che sia così. Poi vi parlo anche di Charles, l'ultimo discorso me lo tengo per Charles perché è stata sua l'ultima azione della partita. Orighi, Orighi molto bene ragazzi, al di là del gol ha tirato una cannella incredibile all'incrocio dei pali. Ve l'ho detto ragazzi, io ve l'ho detto, voi quando io faccio il discorso su Orighi, capita, non tanti, 99% mi date ragione, ma c'è sempre qualcuno, quando io parlo di Orighi, anche durante le dirette del Milan, che fa sempre l'ironico, no? Lollo dici così di Orighi, l'avete visto Orighi questa sera? Orighi è un giocatore che per caratteristiche è completamente diverso come è abituato a giocare il Milan con Oliviero Bombervero, perché Oliviero Bombervero non è uno che tiene palla, non è uno che la gioca, non è uno che ha caratteristiche diverse. Orighi invece è un giocatore che ha più le caratteristiche, ovviamente prendetelo con 50.000 virgolette, quelle che vi sto per dire. Orighi ha più un gioco alla Ibra, è più un superaccentratore di gioco che prende palla, quando c'è la palla tra i piedi Orighi non gliela porti mai via, perché è alto 2,50, 77 kg, non gliela porti mai via. Tiene la palla in mezzo ai piedi e poi la smiste proprio avversari, un po' alla Zlatan Ibrahimovic, per capirci. Poi l'ultimo discorso che vi voglio fare, quindi vabbè raga, tutti bene, tu bene, oggi è stato un bel Milan contentissimo, mi sono tenuto l'ultimo discorso per Charles. Allora a me piacerebbe un sacco vedere in Charles la cattiveria di Tommaso Pobega. Se Charles avesse il 10% della... no, 30% della cattiveria di Tommaso Pobega, staremmo parlando di un giocatore stratosferico. Oggi mi aspettavo un'entrata in campo, ho detto in diretta, raga mancano ancora 30 minuti, 25, quant'è che è entrato più o meno una roba del genere, ho detto, bella, entra Charles, è la partita perfetta per far sì che lui possa fare bene. Cavolo, un po' di quella roba lì, Charles, io capisco che è il primo anno, sai, hai cambiato paese, tu quello che vuoi, infatti hai mille scusanti e attenzione non vi sto dicendo questa cosa per mettere sulla croce Charles, ci mancherebbe, semplicemente per esprimervi un mio parere in merito. Quindi Charles, un po' di quella roba lì, dai, dai Charles, dai, che ti siamo vicini, un po' di quella roba lì. Ho letto un sacco di ha 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 riguardo all'ultima azione, dove arriva la palla, Charles non riesce a coordinarsi, raga, che ha nel senso, non è un errore, nel senso, Charles lì che cosa avrebbe potuto fare, di testa non ci arrivi, perché la palla è nell'altezza dove non ci arrivi, di piede è troppo alta, lui è alto 1,94, cosa fai? Niente, cioè, se Pippo Inzaghi si buttava dentro col corpo pur di buttarla dentro, ha cercato la volia, insomma, non li è riusciti, vabbè ragazzi, non proteggiamo i nostri giocatori, ragazzi, proteggiamo i nostri giocatori, proteggiamo le loro prestazioni, la partita come oggi è una di quelle prestazioni di squadra che bisogna prendere, bisogna mettere nella saccoccia insieme ai tre punti, perché sono delle prestazioni importanti. Quante critiche hai di prima inizio della partita? Lollopa, perché giochiamo con, non giochiamo con i titolari, ma siamo qua a giocare con quelli che sono considerate le seconde linee? Raga, perché a martedì abbiamo una partita importantissima, quindi è giusto che si facciano giocare i giocatori che tu hai comprato per giocare in queste partite. Questo è il mio pensiero. Ragazzi, come sempre è stato un piacere, forza Milan, sono contentissimo della partita di oggi, se siete contenti anche voi, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, un saluto da me qua da casa Milan, ciao Cachavit e basta, vada via il chiulite. Ciao ragazzi, ciao!